Si parla della Filanda Gian Maria, Edvige Ricci, questa mattina c'è stato questo incontro in comune e state prendendo delle iniziative, qual è il senso di quello che è accaduto questa mattina? Tantissime, faccio vedere appena l'elenco, tanto per far vedere l'elenco lucchissimo delle associazioni storiche di protezione dell'ambiente, di protezione dei valori storici oltre che associazioni di donne, tantissime, che stanno lavorando da anni con una promessa della regione di poter recuperare l'area dell'ex Filanda Gian Maria per un luogo verde, verde, lo voglio dire perché la polemica di questi giorni sta andando sul verde verde per la città, nel cuore della città in cui ci si metta, visto l'abbattimento un padiglione come centro di documentazione del lavoro femminile di questa città e in più la riquilificazione del casino di caccia, palazzo sottocentesco nei beni monumentali dichiarati da proteggere di Pescara, per i quali non ci sono i soldi e che noi vorremmo, ma questo lo discutiamo con la città, metterci la casa delle donne un posto di memoria perché la città non perda completamente l'inizio, la memoria del suo sviluppo abbiamo chiesto al comune di costruire dove è consendibile costruire, noi il verde comunque lo vogliamo riportare anche nel cuore delle colline devastate pescaresi in nome della storia, del lavoro delle donne di Pescara